E' stato eseguito dalla polizia il provvedimento di confisca dei beni appartenenti alla consorteria mafiosa di Cosa Nostra denominata Gruppo Alferi di Gela. Si tratta di tre terreni, due fabbricati, due auto e due autocarri per un valore di circa 800.000 euro, già colpiti da provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Tribunale nel novembre 2013 ai sensi della legge antimafia. Beni riconducibili direttamente o indirettamente a Giuseppe Alferi, gelese di 51 anni, detenuto alla casa circondariale di Viterbo, al regime detentivo ex articolo 41 bis, pluri pregiudicato per delitti contro il patrimonio e associazione di tipo mafioso, già condannato nel 2007 alla pena di due anni di reclusione, allorché patteggiò per il medesimo delitto, è stato anche destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere con altre 27 persone, con l'aggravante di essere stato il promotore, il costituente e di avere diretto l'associazione. I sodali del gruppo erano stati accusati perché si alvalevano della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà per commettere delitti di ogni genere e principalmente estorsioni, furti, danneggiamenti col fuoco, usura, occupazione abusiva di immobile ed altro. Le indagini patrimoniali della squadra mobile di Caltanissetta, sezione criminalità organizzata, su delega della Procura della Repubblica, direzione distrittuale antimafia, avevano infatti dimostrato un'evidente sproporzione tra il reddito dichiarato e il valore dei beni.